buongiorno sono cristiani giuliano di legge emilia ho acquistato un prodotto faraone dalle di 7 che ho conosciuto tramite un elettricista che è venuto a fare dei lavori in casa mia l'ho provata ho provato la sua mi sono trovato benissimo perché mi ho dato una certa stabilità della scala essendo io pesante ho chiesto dove l'aveva acquistata mi ha detto l'aveva acquistata in un negozio qui vicino legge emilia in un paesino vicino legge emilia ho chiamato negozio il negozio non era disponibile la scala ho ordinato la scala tramite internet direttamente dal sito mi è arrivata in un tempo brevissimo perché l'ho ordinata a mezzogiorno visto che avevo molta urgenza ed è arrivata la mattina dopo quindi ho notato una serietà e una collaborazione da parte dell'ufficio commerciale proprio mi ha stupito la cosa perché normalmente ci vogliono sempre almeno per tre o quattro giorni ma sono stati gentilissimi ho provato la scala appena arrivata perché mi serviva l'ho provata sono montato fino all'ultimo gradino quindi alla piattaforma in alto per trovare la stabilità io essendo pesante poi si vede anche ho provato a muovermi la scala non si muoveva cioè mi dà una sicurezza estrema e quindi sono molto contento dell'acquisto che ho fatto i pregi di questa scala appunto sono la stabilità la robustezza e la leggerezza in più anche i gradini molto arghi quindi che permettono di salire e scendere in maniera in maniera sicura allora Grazie a tutti.